Benvenuti ad una nuova puntata di N3 TV News sui videogames, a cura di Federico Fasce di curai.eu. Io sono Carola ed ecco il sommario di oggi, 29 ottobre 2007. Samba è ufficiale, Manant legal in UK, due uscite per THQ. Microsoft ringrazia Halo 3, Stranglehold in arrivo. Sigla! Samba è ufficiale. Con una PRSS release, Sigla ha annunciato ufficialmente l'uscita di Samba di Amigo per Wii. Si tratta di un rhythm game molto particolare, uscito sullo sfortunato Dreamcast con bizzarro controller a forma di maracas. Grazie a Wiimote e Nunchuck non ci sarà bisogno, per questa edizione, di periferiche dedicate. Pronti a muovere le maracas a tempo di Samba? Manant legal in UK. Forse esiste una scappatoia per Manant 2, come sapete bloccato dal governo inglese. Secondo The Register, infatti, se il gioco fosse pubblicato anche in rete come download, potrebbe aggirare le restrittive decisioni britanniche. Il progetto ha bruciato a noi, Danny. Ha bruciato le nostre vidi. Ma cosa faremo? Siamo combattuti. E' lui, è il Pikmin. Danny, ascolti. È un manhunter. E non si parla, perché siamo tutti morti. Due uscite per THQ. THQ pronta a spingere su Xbox Live Arcade. In uscita dalla Software House troviamo SpongeBob, SquarePants, Underpants Slam e Screwjumper. L'arrivo sulla piattaforma dei prodotti su licenza Nickelodeon potrebbe giovare moltissimo alla finanza e THQ. Microsoft ringrazia Halo 3. Steve Ballmer ha di che essere felice in questi giorni. Per il secondo anno consecutivo, la divisione Entertainment del Colosso di Redmond chiude all'attivo grazie alle ottime performance di Xbox, che a sua volta deve ringraziare le impressionanti vendite di Halo 3. Tutto bene? Sì, anche se le recenti voci su un possibile abbandono di Bungie fanno comparire qualche nube all'orizzonte. Stranglehold in arrivo. Entra nella fase Gold Stranglehold per PlayStation 3. Lo spara tutto se avvale della collaborazione del genio delle coreografie d'azione John Woo, ed è già disponibile su Xbox. L'ingresso nella fase Gold significa che l'arrivo sugli scaffali è imminente. Vengeance è la missione. Non c'è nessuno che può uccidere questo copo per me? Mi ha detto che non puoi andare in solo. Mi ha fatto. Mi ha fatto. Mi ha fatto. Bloodshed è la sua sola opzione. Tecchino? In 2007, Zhao Yun-Fat returns as Inspector Tequila. Let her go! Come and get her! Per oggi è tutto. Alla prossima. Ciao! 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 Ciao!